Quindi quali sono i dati? I dati sono che N è uguale a 10, il tasso di interesse è il 5%, l'ammortamento è un ammortamento italiano, R6-R7 è uguale a 100 e dobbiamo trovare l'importo del prestito, quindi D0. Allora, come facciamo a trovare D0? Noi sappiamo che D0, e questa pure se vuoi possiamo selezionarla come una formula utile, è uguale a C per N. Quindi noi abbiamo che D0 è uguale a C per N, N ce l'abbiamo perché è uguale a 10, C non ce l'abbiamo, C lo dobbiamo trovare. Come si trova solitamente C? C di solito si trova, come ti dicevo prima, facendo D0 fratto N, solo che è ovvio che noi adesso D0 fratto N non lo possiamo fare, perché? Perché dobbiamo trovare D0, quindi dobbiamo trovare un'altra strada. Come facciamo a trovare C? Proviamo a sfruttare gli altri dati che ci dà il testo. Il testo ci dice che R6-R7 è uguale a 100. Quindi noi sappiamo che R6, la rata che paghiamo in 6, è uguale a C più I6, e la rata che paghiamo in 7 è uguale a C più I7, corretto? Perché noi sappiamo che la rata è composta da una parte di capitale sempre uguale e da una parte di interessi. Ora, R6-R7 è uguale a 100, quindi C più I6, che è R6, meno C più I7, che è R7, è uguale a 100. Vado a togliere le parentesi, quindi abbiamo C più I6, meno C, meno I7, uguale a 100. C e C se ne va. Abbiamo che I6-I7 è uguale a 100. Abbiamo trovato quello che vogliamo? No, in realtà no, ma possiamo approfondire. Perché possiamo approfondire? Perché noi sappiamo che il nostro I6 è uguale a I per D5. Quindi, mettiamo questo I6 di un colore, mettiamolo violetto. Quindi noi sappiamo che il nostro I6 è uguale a tasso di interesse per D5. Perché se ti ricordi, la parte di interesse è uguale al tasso di interesse per il livello di debito del periodo precedente. Quindi se qui abbiamo I6, sarà I per D5. E poi abbiamo il nostro I7, che facciamo un altro colore, magari lo facciamo blu in questo modo. Quindi abbiamo il nostro I7, che è uguale a I per D6. Anche qua perché? Perché noi abbiamo il nostro interesse, I7, che è uguale al tasso di interesse per il livello di debito del periodo precedente. Quindi I7 è uguale a I per D6. Posso andare a raccogliere il mio I, quindi I uguale a D5 meno D6, che è uguale a 100. Sapendo che il livello di debito di K si calcola facendo N meno K per C, io so che il mio D5 sarà 10 meno 5 per C. Quindi questo qui è il mio D5 e questo sarà il mio D6. Cioè D6, siccome DK è uguale a N meno K per C, D6 sarà 10 meno 6, quindi N meno K per C. Ciao! Scusa l'interruzione, ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella, così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via! Buona continuazione! Ciao! Quindi qui dobbiamo mettere insieme un po' di formule. Questa era la formula che noi abbiamo fatto precedentemente, ok? Quindi sappiamo che DK uguale a N meno K per C. Noi siamo arrivati qua, dove I per D5 meno I per D6 è uguale a 100, ok? Noi sappiamo che DK uguale a N meno K per C, quindi io raccolgo la I e mi ritrovo I per D5 meno D6 uguale a 100. Come dicevo, facciamo riferimento a questa formula e quindi il nostro D5 si trasforma in 10 meno 5 per C e il nostro D6 si trasforma in 10 meno 6 per C. Quindi di 5 meno D6 diventa 10 meno 5 per C meno 10 meno 6 per C. 10 meno 5 per C fa 5C, 10 meno 6 fa 4 per C, 4C. Quindi noi abbiamo 5C meno 4C uguale C. Ora questo lo possiamo anche fare un pochettino più, ecco, in questo modo, così si deve prendere un pochettino più di spazio. Quindi noi abbiamo, ripartiamo da qua, I per D5 meno I per D6 uguale a 100. Raccolgo il tasso di interesse, quindi diventa I per D5 meno D6 uguale a 100. D5 meno D6, abbiamo detto che è uguale a C grazie a questi calcoli e a questa formula. Quindi I per C è uguale a 100. Il tasso di interesse è il 5%, quindi C, che è il capitale, la parte di capitale per ogni rata, sarà uguale a 100 fratto 0,05, che fa 2000. Ora che abbiamo trovato C, possiamo trovare il nostro D0. Sappiamo che D0 uguale a C per N, N uguale a 10, quindi D0 uguale a C per N, N uguale a 10, D0 uguale a 2000, che è la nostra C, per 10, quindi D0 uguale a 20.000. Quindi riassumendo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto i dati. Dopo aver raccolto i dati, dobbiamo trovare D0, quindi siamo partiti dalla formula di D0. Ci mancava C. Mancando C, C, siamo andati a utilizzare i dati che ci rimangono, cioè R6 e R7. In questo modo siamo arrivati alla conclusione che I6-I7 è uguale a 100. Quindi abbiamo approfondito, se I6-I7 è uguale a 100, noi sappiamo che I6 è uguale a I per D5 e I7 è I per D6, quindi abbiamo approfondito con le formule che abbiamo fatto nella parte teorica, fino ad arrivare da questo I6-I7 è uguale a 100 a I per C uguale a 100. Il tasso di interesse lo conosciamo, quindi in questo modo abbiamo trovato la parte di capitale di ogni rata. Sapendo la parte di capitale abbiamo tranquillamente poi trovato D0. Le formule utili sono, a parte quelle di base, cioè D0 è uguale a C per N e il fatto che I6 è uguale a I per D5, quindi K è uguale a I per DK-1. L'altra formula utile è questa, cioè DK uguale a N-K per C. Con queste tre formulette, diciamo, siamo arrivati a risolvere il nostro esercizio. Ottimo, questa parte è finita, ci vediamo nella prossima parte dove facciamo l'esercizio un pochettino più difficile. Bene, questa è solamente la prima parte del corso che abbiamo creato, abbiamo deciso di pubblicarla per comunque darti del valore gratuito, darti delle informazioni che ti possano servire. Se vuoi il corso completo, ti ho lasciato sotto il link, basta cliccare, andrai nella nostra piattaforma e-learning e lì troverai il videocorso completo. Ciao!